Dekigeemu presenta Abbiamo avuto la fortuna di vedere tradotte in inglese e in italiano E sta pubblicato all'interno di questo libro Che si chiama Monkey Brain Sushi Che è una raccolta di autori, di scrittori di storie Tutti scrittori giapponesi Però in mezzo a tutte queste brevi storie, brevi romanzi Hanno inserito anche un manga Ed è appunto il manga di Michio Che si intitola Japan Jungless Day E come al solito ho cominciato a cercare, approfondire questo autore Perché è un altro di quelli che erano stati pubblicati su Garo In particolare tra gli anni 70 e 80 Questa storia se non ricordo male è dell'85 E questo volume è uscito appunto sia in inglese Che questa versione che ho recuperato io Visto che l'ho trovata meno Ma c'è anche in italiano Quindi poi se ti interessa come al solito nella descrizione del video Ti metto i link per recuperarla Così se ti interessa anche il resto delle storie testuali e non disegnate Ti puoi leggere anche quelle In particolare questa storia è un classico racconto di post-guerra In cui ci sono questi due soldati Che sono su un'isola a combattere per il Giappone E ovviamente non si accorgono che la guerra in realtà è finita E loro sono da decine di anni che tentano di proteggere questa Quest'isola dagli americani O almeno questo è quello che sembra all'inizio E naturalmente dopo così tanti anni di isolamento E paranoia per la guerra Questi due cominciano a avere varie allucinazioni Che può essere vedere il loro medikit Il pacchetto di emergenza come un dottore con cui parlano Oppure fino a vedere un alieno che arriva dallo spazio Per chiedere donazioni per gli orfani del suo pianeta Questi orfani alieni Ma in particolare la storia è molto incentrata sui dialoghi Ed è questa storia introspettiva che parla della miseria umana Con un tono abbastanza di filosofia E di introspezione personale E in cui naturalmente Quello che può sembrare all'inizio Non ho detto che sia poi la realtà Quindi l'allucinazione sicuramente gioca un ruolo fondamentale All'interno del racconto Dimicio l'altra unica sua storia Che è stata, almeno che io ho scoperto finora Pubblicata anche in Occidente È un'altra breve storia Che è stata invece tradotta in una rivista francese e italiana Che si chiamava Metal Arlant E sto ancora cercando di recuperarlo Questo volume Visto che si trova anche facilmente su ebay Però insomma al momento non l'ho ancora recuperato Però sicuramente è un peccato Che un autore così affascinante come Micio Non sia stato ripreso da delle case editrici Proprio di manga Per magari pubblicare appunto un'antologia Un po' più completa con le sue opere Visto che ha sia uno stile abbastanza affascinante Che riprende appunto quello che si vedeva su Garo all'epoca Sia delle storie che giocano sia con i problemi sociali del Giappone Ma anche con la linea tra immaginazione e realtà In realtà per questo consiglio non c'è molto altro che ti posso raccontare Perché la storia è talmente breve Che non vorrei neanche spoilerarti come va poi a finire Se riesci a leggerla Però sicuramente anche lui è un autore consigliato Da scoprire se ti interessano i mangaka alternativi E in particolare quegli autori che pubblicavano su Garo In quell'epoca fantastica Quindi in questo caso perlomeno abbiamo avuto la fortuna Di avere ben due Almeno appunto finora quelle che ho scoperto Ben due storie di Micio Isauci Che possiamo leggere senza problemi E online ho provato a cercare ma non ho trovato finora Scan delle sue storie originali in giapponese Forse c'è qualcosa sui soliti siti che pubblicano alcune pagine di Garo Però purtroppo niente di completo Però è giusto per farti un'idea di quanto fosse affascinante il suo stile Di quello che ci stiamo perdendo Questo era Micio Isauci Quindi un altro autore di manga alternativi Di manga meno conosciuti e particolari Che è consigliato a recuperare E questo appunto era Monkey Brain Sushi Nella descrizione del video ti lascio Gli approfondimenti per recuperarlo Abbastanza interessante anche le altre storie appunto Degli scrittori classici Sono tutte comunque abbastanza allucinate Grazie per l'attenzione E a presto Grazie per l'attenzione Grazie per l'attenzione